Capita a tutti di avere dei problemi di attrite, problematiche articolari, problemi per cui è difficile fare questo movimento ad esempio, o magari anche quest'altro. Oppure possono esserci problemi alla cervicale in cui effettuare questa estensione del racchide cervicale risulta essere doloroso. Oppure possono esserci problematiche legate al lavoro che a lungo andare possono creare delle problematiche articolari. Io sono un personal trainer, Antonio Pagonio appunto, e posso darvi una valutazione complessiva di quello che è il vostro stato di salute in modo da andare a realizzare un programma di allenamento fatto su misura per voi. Vi aspetto gratuitamente senza nessun impegno qui ad Officina Fitness.